Per concretizzare prassi efficaci e diffuse di sostenibilità, il soggetto pubblico, le istituzioni, devono ora intervenire con leggi, incentivi e anche con risorse adeguate, collaborando con imprese e attori del terzo settore per mettere a valore le esperienze già acquisite negli ultimi anni. È una delle indicazioni emersa nel corso della prima tappa del Giro d'Italia della Siesar 2020, organizzato dal Salone della Siesar e dell'Innovazione Sociale. L'incontro, che si è svolto all'Università di Torino, ha avuto come focus la sinergia tra pubblico e privato, a vantaggio dei cittadini. Un rapporto ricco di opportunità ma anche di criticità. Enrico Sorano, docente del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. La maggiore delle criticità, ma credo sia anche il punto di partenza per una migliore relazione sotto questo profilo, è quella della creazione delle infrastrutture che da parte delle istituzioni devono cercare di creare quelle autostrade per fare in modo che la sostenibilità diventi effettivamente operativa e metta sinergia il mondo pubblico con il mondo privato, in particolare tutto il mondo del no profit, delle comunità locali, delle università e delle aziende private. Accanto alla progettualità, alle istituzioni viene chiesta però anche velocità di intervento a fronte di diversi problemi, a cominciare da quelli ambientali per esempio, che i territori affrontano spesso in condizioni di periodica emergenza. Ivana Stefani, responsabile acquisti e affari generali del gruppo AMAG di Alessandria. Le criticità in questo periodo, come in tanti altri settori, riguardano prevalentemente l'aspetto economico in realtà, perché ottenere gli finanziamenti per poter realizzare gli obiettivi non è un aspetto così semplice. Lo Stato io credo che rileva sul territorio tanti problemi connessi al cambiamento climatico, alla fragilità dei territori. Da ultimo in Alessandria c'è stata un'alluvione, l'ennesima nel mese di novembre che ha provocato crolli, smottamenti, dovrebbe sostenere le aziende negli investimenti necessari per consolidare il territorio, riparare i danni, ma soprattutto costruire gli strumenti per impedire che questo avvenga anche in futuro. Enrico Nava, responsabile politico e sociali di Nova Group, ha portato alla discussione una prospettiva di sintesi, focalizzando l'attenzione su due ambiti nei quali il settore pubblico può intervenire. Tutto l'ambito legislativo, fare sostenibilità è importante, ma se si è sostenuti da leggi che sostengono queste scelte e che indirizzano anche i comportamenti dei consumatori, perché a volte è necessaria anche una spinta gentile fatta da leggi, incentivi economici per favorire comportamenti più virtuosi, questo rende di sicuro più facile l'attuazione di comportamenti sostenibili. L'altro ambito del pubblico per noi molto importante è quello della ricerca, come essere qui oggi, perché la sostenibilità non è un punto d'arrivo ma un cammino in continua evoluzione e solo col confronto con chi studia o con altre realtà è possibile migliorare e trovare nuove soluzioni o posti nuove problematiche e penso che sia solo il pubblico che può creare dei tavoli di confronto come quello di oggi. Dopo Torino, il Salone della SESAR toccherà entro giugno altre 13 città italiane, dalla Lombardia alla Sicilia, per raccontare diversi volti della sostenibilità. Appuntamento finale poi al Salone di Milano, in Bocconi, il 29 e il 30 settembre, con l'edizione nazionale.